Ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale! Oggi facciamo una nuova sfida! La sfida delle torri colorate! Ho distrutto quasi tutto! Adios! No! Sto spaccando la torre verde! Stai fermo! Non spaccare la torre verde! Aggiungere a una nuova sfida! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao! ci vediamo mai con nessuno e vi diamo tanti tanti like ciao ciao